Allora, per trovare la radice quadrata di 576 utilizziamo la scomposizione in fattori primi che diventa 2 alla sesta per 3 alla seconda. Poi possiamo vedere che gli esponenti sono tutti e due pari e quindi possiamo dire che 576 è un quadrato perfetto. Poi applichiamo la proprietà della radice quadrata di una potenza, cioè di un prodotto, quindi poi viene radice quadrata di 2 alla sesta per radice quadrata di 3 alla seconda. Poi facciamo 2 alla sesta diviso 2 e dividiamo per l'indice della radice quadrata. Quindi poi viene 2 alla sesta diviso 2 e 3 alla seconda diviso 2 che è uguale a 2 alla terza per 3 che è uguale a 8 per 3 uguale a 24. 5 alla seconda diviso 2ою 3 alla scomposizione in fattore. 6 a 2 alla sesta diviso 2 alla sesta diviso 3 sua attribulle a 2 a 2 Because of life, dievile 161 azioni in fattori 3 è uguale a 3 due pari della sesta tua esista per 2.